Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video di Amelie Game Ma per prima cosa, se vedete che inizio questo video, allora, lasciate like, iscrivetevi sotto il mio canale E... Fa... e... 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 basta Allora, iniziamo Questo video sarà un pochetto particolare, perché Oggi vi farò vedere gli account del mio telefono e del mio tablet Beh, iniziamo Allora, per prima cosa, quello del mio telefono Adesso vi faccio vedere subito, è questo qua Adesso si deve caricare E questo qua E questo 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 Quindi, se volete avere la mia amicizia, mandatela Perché io ci gioco spesso al telefono E quindi qua, questa è la mia Adesso ve lo cerco subito Quindi iniziamo Allora, si chiama così Amelie A, grande Amelie Ah, aspetta Amelie, ok Poi Tovit, tutto grande T V I T Così Io mi chiamo così sul telefono Vedete, sono io Quindi mi aggiungo amica E questa sono io Ovviamente non ho capelli Perché Ovviamente adesso sono online Se spengo il telefono Non sono online Cioè Adesso Adesso non sono più online, ovviamente Ok Allora, adesso andiamo a cercare Il mio profilo Del tablet Che ovviamente io non ci gioco molto Però Allora Andiamo su Il profilo di mio Di mio fratello Visualizza il profilo E andiamo sugli amici Adesso vi faccio vedere Perché io ovviamente Ok Eccoci qua Allora Il mio profilo Invece ovviamente Ha anche la mia amicizia Come vedete Aspettate Ho fatto tutto L'incontro Ha anche la mia amicizia Vedete Come vedete Anche la mia amicizia Del computer Un po' Perché Ho un pochetto Sfocato Ecco Anche la amicizia Del computer E io sono questa Adesso ve lo scrivo subito È un po' strano il mio nome Però Allora Adesso ve lo scrivo Allora A grande come sempre Meli Sarà un po' cortino Questo video Perché vi faccio solo vedere I miei nomi Sapete perché? Beh Tra poco vi mostro La storia Trettino basso Io Tu Non c'era altra scelta Quindi ho scelto questo nome E queste sono io Vedete Non so perché Non è in linea Ma queste sono io Ha un follower Dieci amici Come vedete Anche i bonghi Matteo In bonghi Matteo È mio fratello Quindi se volete Avere l'amicizia Di mio fratello Andate pure È anche l'amicizia Di Liliana Ghigiotto Che è la mia migliore amica Aggiungiamo Amico Quindi adesso Io ovviamente Guardate Guardate Adesso vi faccio vedere Una cosa Amici Amico Aspettate Mi sono mandata La richiesta a me stessa Vedete Quindi è tutto vero Non è Non è falso Scusate se stavo Andate a incontrare E quindi Adesso Beh Vi racconterò Vi racconterò La storia Beh Allora Io sono andata Su Brookhaven Quanti amici Che stanno giocando Io sono andata Su Brookhaven Ovviamente Perché Io non ci faccio Video su Brookhaven Sapete perché Cosa ci faccio Io a fare i video Comunque Oggi giochiamo Un video spaventoso Ah no È un gioco Spaventoso Ma comunque Beh Io sono andata Lì No E Ho detto Volevo stare nel gruppo Di alcuni ragazzi Loro non volevano Quindi ho detto Conoscetemi lì No Cioè Sì Conoscevano lì Quindi ho detto Fatemi delle domande Sapete io sono lì Non ci credono Quindi Testolina mia Ha funzionato E io adesso Appunto Gli ho fatto vedere La verità Ma perché Io sono esplosa Quindi vabbè Allora Oggi giocheremo A Papa Pizza Ok A Papa Pizza Giocheremo A Questo gioco qua Ed è spaventoso Ok Ok Iniziamo Non mi ricordo Come si gioca A Roma E perché È da tanti giochi Che È da tanti No È da tanti giorni Che io non gioco E Quindi Se volete andare A scoprire Il segreto Di Papa Pizza Allora Ci sarà un altro video Oggi Quindi Andate a vedere Che c'è un segreto Come Come andare Ovviamente Come uscire Prima dalla mappa Iniziamo Allora Io ovviamente Non so come Non mi ricordo Come giocavo io Perché io ovviamente Adesso alla fine Vabbè Ok Andiamo Mi stanno seguendo Sono i miei amici Ok Bene Giocheremo con Gli amici Amici No Sono amici Perché Ok Non so bene giocare Perché io non mi ricordo Ben preciso Come Allora Ok Adesso Qua Anche qua C'è il segreto Quindi ve lo farò Ve lo Ve l'ho fatto vedere Nel video Che anche oggi È uscito Ovviamente Ok Ok E quindi Via Io ho paura Ok Vabbè Tanto è solo un gioco Allora Ok È dietro di me Ok Allora Scendiamo Ovviamente Allora Raga Ok Allora Noi Vi spiego cosa noi dobbiamo qua fare Beh Per prima cosa Noi dobbiamo In realtà sapete cosa dobbiamo fare Però Noi dovremmo vincere E Andremo in un parco giochi spaventoso Cioè Giochi spaventoso In un parco che non mi piace Beh Se volete provare Un altro gioco Che è sempre spaventoso Ecco qua È lui qua In un gioco spaventoso Che è ovviamente Ok Beh Che è ovviamente Sempre spaventoso Che io non sono riuscito Mai a passarlo Perché è È veramente Impossibile A livello tipo Non lo so E sono morte però Aspettate Io quello là Quello là Non sono Non riesco Però C'ero riuscito A passare Ed era anche Molto facile A dire la verità Allora Aspettate 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 Che sto baggando Perché io non mi ricordo Come giocavo Nei tempi Sono bellissimi Ma vabbè Allora Perché io devo muovere Anche il dito Ok Ecco Ve l'ho detto Ve l'ho detto Ok Rifacciamo Ricacciamo Come dice sempre Feo Ok Ok Ci siamo riusciti E E Questo qua Vi ricordate Questo Cioè Non so Se ho giocato Il pagliaccio Mi pare Si Abbiamo giocato Il pagliaccio Ok Si cade Si cade Si cade E' normale E' normale E' normale Perché io schiaccio Tutte e due Contemporaneamente Vabbè No Ok 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 Entriamo In questo Tubo A papà Vabbè Ah No 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 Piano 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 Ok Ok Aspettate 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 Ok E qua siamo già alla fine Un video costissimo Ok No Non mi prendi Per favore Permite Vabbè Allora Rifacciamo di nuovo Io questo qua sul tablet Riuscivo a fare Ma visto che io ho già tanto tempo Che non gioco al tablet Cioè No Al computer Ok No Ma venga c'ero Vabbè Allora ragazzi Bazzini Facciamo E facciamo Andiamo 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 E Si Ma No Raga Allora Rifacciamo tutto da capo Tutto 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 Facciamolo bene Ok No E lì E lì E lì E lì Ok Ci sono riuscite raga Woohoo Ok 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 No No, 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 no Allora È perché io mi dimentico di schiacciare Tasto Salta Tasto, salta Aiuto, aspettate Ok No La fine Vabbè Allora Comunque è troppo difficile perché Allora Mi devo mettere questo perché se no mi scivola Ok Dai Non è giusto Ok C'è Gioia Vabbè Che nome strano però Ok Ci sono riusciti Ok Qua l'avevo già fatto Prendiamolo Ok l'ho preso E andiamo ad aprire Ragazzi comunque prima non volevo dire Una parolacce Quindi sembra che volevo dire una parolacce ma non è vero volevo dire la collo Ma che parolacce poi Vabbè Allora Andiamo su E ci sarà la fine E ci sarà la fine No Non ci sarà la fine No 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 Vabbè Una volta ci sono riuscito a finirlo Ed era molto facile Peccato che poi dopo Alla fine ci sono gli alberi che dovrai passare E che ci sarà Diciamo non il pagliaccio ma il pizzaiolo Che ti Che ti Che ti mangerò Raga no Io questo odio 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 Vai 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 Perché Vai 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 Ma perché sul 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 computer riesco a farlo E sul tablet No Vabbè Comunque oggi vi ho Vi ho fatto vedere I miei personaggi Diciamo Quelli che io uso Andiamo qua Andiamo Lì No Ma dai Ma perché mi Ma ero Viva Magia Ok Allora Ehm I I I I I I No no Ok Ok Non mi spingete Stupidi così Via Pi Ok 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 Non so perché Quanto tipo Dai robot Ehm Uh Raga Compriamo qualcosa Vediamo Vediamo cosa possiamo comprare Allora Allora Vediamo quanto Quanti Robux Abbiamo Soprattutto Allora Compriamo Questo Sì 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 Lo compriamo Vediamo cosa succede Oh No vabbè Cosa troppo Ho solo 200 Robux Quindi no Vediamo gli animaletti Non posso comprare Non posso comprare me No Vediamo No Lo so troppo Raga Ok Vediamo il cane Invece Quanto costa 60 Robux Compriamo Ho il puppy dog Raga Ho il cagnolino Ho il cagnolino Ho il cagnolino È molto cagnolino No È molto cagnolino Cagnolino Vabbè Il pizza Raga è rosso Quindi lo mettiamo Rosso Andiamo cagnolino Su Forza Forza Che dobbiamo Vincere Cagnolino Scusami se vado piano Ma devo vincere No cagnolino Cagnolino Non è molto Ma ti ho comprato Ok Niente cagnolino Per oggi Vabbè Comprato per nulla Ok 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 Dovete Aspettate Aspettate Ok 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 Salta su No 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 Io in lava Non ci vado Non ci vado Per No Vi prego Cagnolino Cagnolino Non c'è Ah no C'è No Vabbè Questo era Facilissimo Giuro eh L'ho fatto in 5 secondi Comunque raga Io Ho anche accettato Le vostre richieste Sì Io ho accettato Le vostre richieste Però ragazzi Scusatemi Non potrò accettare Tutte le richieste Perché Il limite Degli amici È 200 Ma voi Me ne avete Mandato In 280 Qualcosa Quindi 80 Non potranno Overe la mia Amicizia Mi dispiace Ma Mi dispiace Moltissimo Ma comunque Vabbè Ok No niente Allora Andiamo Ok Correre a casa Allora 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 Dovete andare Dovete andare Solo per questa strada Qua E dovete andare Senza fermarmi Senza Fermarvi Ok Perché sennò Vi potrebbe Prendere Per esempio Come a me Che io non so Adesso dov'è Però Vabbè Ok Ok Non è quello Ok Non è quello No Mi sei baggato Mi sei baggato Mi sei baggato Vabbè ragazzi Il video Finisce Qui Ok Oh E' Morto Allora Non sono morto Ovviamente No No Allora Beh Dobbiamo finire Perché io Ovviamente Ok Ero ovviamente Lontano Quindi Non Mi aveva preso Non lo vedo Ok 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 Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Abbiamo vinto Il video Con il mio Cagnolino Cagnolino E Vi Allora Noi vi salutiamo Con il mio Cagnolino Vero cagnolino E quindi Ci vediamo Al prossimo video Che Ovviamente Adesso Vabbè Ci vediamo Il prossimo video Ciao I draw my life I draw my life Marjuju Moje Žetia Bye Noi